Buongiorno a tutti, sia che è qua che presso le sedi periferiche. Vi spiego brevemente il motivo della riunione. Tanto, come sapete, noi, dallo scorso piano triennale delle attività che è stato approvato, in base a tutte le norme che sono uscite e che noi abbiamo recepito, andremo alla prima stabilizzazione, credo che siate 49 persone, 48, che verranno stabilizzate i cosetti comma 1 del decreto Madia. Questo processo formalmente, poi dopo il dottor Lacommare vi dirà un po' di tempistiche, ma presumo più o meno dal primo dicembre partirà questa situazione. Io volevo cogliere l'occasione di questo processo di stabilizzazione per dirvi un po' di cose. Cioè, nella discussione che abbiamo avuto nell'ambito e in Consiglio di Amministrazione, rispetto al piano triennale delle attività, che comprende il piano del fabbisogno del personale, che comprende quindi, da un lato, le stabilizzazioni del cosiddetto comma 1, dall'altro anche la politica, diciamo, di acquisizione di nuovo personale, poi ci sarà anche la fase, noi ci stiamo lavorando all'acremente per fare in modo che ovviamente ci sia anche un processo di stabilizzazione per i cosiddetti comma 2, e poi anche un po' di nuove assunzioni. Ovviamente in quelle che è una situazione, vi dico queste cose perché è giusto che le sappiate, perché non è che vivete su un pianeta esterno, in una situazione di bilancio, che è una situazione, oggi abbiamo Consiglio di Amministrazione, io spero che sia il bilancio che il nuovo piano di fabbisogno triennale vengano approvate e, come dicevo, è una situazione di bilancio sicuramente più favorevole rispetto a qualche tempo fa. Riusciamo a mantenere un tasso di investimento interessante sul settore informatico e sul settore dei laboratori, qualche cosa viene dato per, parlo del contributo ordinario, che riusciamo a dare anche rispetto alle attività dei singoli CRA, però insomma non sfugge nessuno che il core business, il core dell'attività dell'agenzia è rappresentato dal personale. Sia il tema del bilancio che il tema del piano di fabbisogno del personale e quindi del piano triennale delle attività vanno contestualizzate e così ci chiede il Consiglio di Amministrazione, ma il Consiglio di Amministrazione in realtà non riprende altro che delle linee strategiche che sono definite da un lato, da una nuova legge, che, bello brutta che sia, la legge 132 del 2016 prevede che Ispra abbia un ruolo assolutamente diverso rispetto a quello che aveva prima, non solo teorico ma anche pratico, nel senso che si parla di riorganizzazione interna per favorire questo processo dell'applicazione della legge 132, che non vi sfugge, vuol dire insomma rimettere mano a certe situazioni organizzative all'interno dell'istituto, qualcosina, qualche piccola cosa abbiamo fatto, ma in realtà ci siamo presi un annetto di tempo per vedere di attuare un percorso di riorganizzazione più confacente a quello che è l'indrizzo del legislatore. Dopodiché noi abbiamo delle direttive che ci vengono dal nostro Ministero Vigilante e è stato pubblicato questo decreto ministeriale nell'agosto scorso, dove vengono indicate tutta una serie di aree prioritarie che le politiche di questo Ministro vuole portare avanti come politiche che non sono ancora declinate in vere e proprie direttive per Ispra, ma dove si intuisce, non è che si intuisce, si capisce abbastanza chiaramente quali sono i settori strategici. Ispra quindi nel tempo, non lo farà tutto in una volta, deve sempre di più orientarsi verso quello che è un supporto qualitativo all'attività istituzionale del Ministero e del Governo in generale mantenendo quell'attività di ricerca funzionale a questo disegno. Da qui non vi sfugge che, come credo possiate ben capire, ci sono delle attività, dei settori, delle aree, dei dipartimenti, dei centri all'interno dell'attuale organizzazione che hanno bisogno di essere potenziati e su cui quindi bisogna fare un ragionamento anche perché le approvazioni dei vari documenti strategici compreso il piano del fabbisodio personale e quindi anche questioni che vi interessano direttamente ci vengono subordinate di fatto a queste indicazioni strategiche che ci vengono dal Consiglio di amministrazione. Cioè il Consiglio di amministrazione dice bene, voi ci avete presentato un piano, un bilancio, eccetera, eccetera. Benissimo le stabilizzazioni, benissimo il comma 2, fate quello che vi pare, a condizione che ci siano una serie di siti, vengano rispettati dei paletti di carattere finanziario e economico di bilancio e quindi su questo noi stiamo lavorando, anche su questo non è facilissimo perché voi sapete che noi abbiamo un contributo ordinario che non tiene conto degli aumenti contrattuali, non tiene conto delle dinamiche di spese che il personale ha e che ce la dobbiamo coprire di volta in volta. Allora adesso siamo in una situazione discreta e fra due o tre anni se questo contributo non aumenta e i contratti comunque aumentano, pur avendo fatto una politica del personale molto accorta, che sta abbondantemente sotto al famoso 80% che viene definito per legge, rischiamo che fra tre anni con questa dinamica, se non cambia qualcosa, il bilancio diventa un problema, nel senso che andremo sotto di nuovo, cosa che io vorrei assolutamente evitare. Ma su questo stiamo lavorando su diversi fronti, potrebbe esserci un aumento del contributo ordinario, punto di domanda, la vedo molto dura, ci può essere una rivisitazione delle attività che facciamo più facile, perché questo dipende più da noi, insomma c'è un mix di codi e politiche che dovremmo mettere in atto per evitare di ributtare l'istituto in default, tenendo presente che nel frattempo non è che le attività che ci chiedono di fare stiano diminuendo, ma rischiano addirittura di aumentare. Quindi da un lato c'è una richiesta maggiore di coinvolgimento, dall'altro dobbiamo lavorare per avere questo nuovo ruolo nel confronto del sistema, dall'altro dobbiamo spostare l'istituto più su attività di carattere istituzionale che guardino a certe attività sul campo con maggiore interesse e che ci devono vedere più impegnati, quindi tutta l'attività anche di controllo, di ispezione, del danno, della valutazione di impatto ambientale, della valutazione di ambientale strategica, insomma tutto quel pacchetto di attività che già facciamo ma che in alcuni casi non è corrispondente in termini di risorse, di personale e anche economiche all'indicazione strategica che oggi c'è sul campo. Non so se mi sono spiegato. Cioè noi abbiamo una fotografia dovuta a tanti motivi di un certo tipo e una richiesta che ci viene fatta che fa in modo che le due fotografie non matchino completamente. Ora il mio compito come direttore generale seguendo le indicazioni di gran parte le condivido non è che faccio fatica però seguendo le indicazioni del CDA il quale a sua volta riprende indicazioni strategiche che vengono dal legislatore e dalle indicazioni del governo bisogna che noi facciamo matchare un po' queste due fotografie perché sennò diventa difficile mantenere quella fotografia continuare a fare politiche che vanno in una direzione e mi vengono chieste di fare assolutamente altre cose per cui io bisogna che piano piano ci si metta il tempo che ci si deve mettere non è una cosa banale tenete presente che la legge mi dice che devo 120 giorni per riorganizzare l'ente in funzione del coordinamento del SNPA quindi qualcosina abbiamo fatto ma sarà il 5% di quello che bisogna fare fatta tutta sta lunghissima introduzione quindi quali sono le aree noi abbiamo definito un documento che è questo quello vecchio poi quello nuovo più o meno riprende adesso volevo farvi vedere ma non posso farvi vedere così il piano triennale delle attività questo è quello nuovo non ve lo posso far vedere perché non è stato approvato diciamo che quello vecchio non è molto non è molto differente che prevede da delle aree di intervento prioritarie adesso ve le leggo che sono vigilanza e controlli ambientali ispezione bonifiche rifiuti monitoraggio dissesto idrogeologico punto A punto B supporto alle valutazioni e autorizzazioni aia via danno ambientale punto C infrastrutture per l'attuazione della legge 132 sino a laboratori informatica punto D supporto alle nuove politiche ambientali spesso economico economia circolare nuove modalità di controllo e telerilevamento punto E rafforzamento dei processi interni di supporto trasversale bilancio provvigionamenti questa è la parte diciamo più di carattere gestionale e amministrativo sono cinque punti poi se volete questo ve lo faccio avere che sono un po' come posso dire l'indrizzo verso cui ci dovremo muovere poi voglio dire qualcuno di voi potrà dire no non mi piace però questo è non è che posso fare diversamente io lo condivido il disegno premetto ma anche se non lo condividessi come direttore generale questo dovrei fare ergo e quindi concludo poi dopo do la parola a Marco per eventuali approfondimenti poi se vuole aggiungere qualcosa voi siete è anni che siete qua che lavorate alcuni di voi hanno lavorato anzi molti di voi hanno lavorato in alcuni settori ho avuto il piacere di leggere i vostri curriculum siete anche qualitativamente molto elevati di dar sì ho dato un'occhiata non è niente di segreto penso se li avete presentati insomma più o meno magari nel frattempo avrete sicuramente migliorato le vostre performance non c'è dubbio ma era solo per avere un'idea più o meno insomma è chiaro che siete giovani ma non giovanissimi ecco nel senso in teoria le stabilizzazioni dovrebbero avvenire magari su trentenni ecco diciamo che anche voi avete qualche mese in più dei trent'anni per cui avete maturato una professionalità che sicuramente è di livello e io non voglio neanche mettere in discussione però in base e quindi avete sviluppato una serie di expertise che alcuni di voi vorranno portare avanti presumo ma nella vita io almeno la penso così sono un ricercatore come voi universitario forse direi ho anche il dottorato di ricerca però ho cambiato tanti mestieri nella mia vita si può anche fare cioè non è una roba vietata quindi uno può aver maturato un'esperienza in un settore e può anche in un certo momento dire vabbè potrei anche cambiare avrei anche voglia di cambiare che male non fa nella vita secondo me però detto ciò quindi noi abbiamo fatto qualche ragionamento però ovviamente la richiesta che vi faccio qual è? da qui al primo dicembre c'è un mesetto ecco io vi chiedo in base a queste indicazioni prioritarie che vi ho dato di pensare se eventualmente voi stessi quindi vi do una decina di giorni di tempo non che dopo succeda chissà che però cioè vi chiedo ovviamente di pensarci su ed eventualmente rispetto al ruolo che oggi svolgete quelli che non sono all'interno non sono stato qui a dire quei tre sono lì quei quattro sono là ci sono alcuni alcuni di voi che sono sicuramente già all'interno di queste aree prioritarie altri no ecco chi non lo è eventualmente se desidera o avrebbe piacere o volesse come posso dire avventurarsi o comunque sia scegliere un indirizzo differente a noi farebbe molto molto piacere ripeto un po' di più di piacere perché ripeto io riesco a tenere tutto il castello in piedi rispetto al fabbisogno rispetto poi alla stabilizzazione del comma 2 rispetto ai nuovi concorsi rispetto 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 se mi presento con una certa coerenza a quelle che sono la richiesta di un consiglio di amministrazione che giustamente mi dà delle linee strategiche in linea con quelle che sono le indicazioni che ci vengono date poi non che le altre attività siano di meno importanza io non sto dando dei voti dicendo ci sono attività di serie A e di serie B però oggi ci sono delle attività che noi dobbiamo assolutamente svolgere in maniera migliore rispetto a prima assolutamente ci sono alcune situazioni veramente dove siamo in difficoltà poi qui adesso nelle politiche ambientali c'è anche tutta la parte che riguarda il clima non vi sfugge che su tutto il tema economia circolare bonifiche controlli clima in futuro quello sarà un po' la linea strategica dentro cui dovremmo stare quindi io ho necessità di rinforzare quei settori qua dentro al di là di chi ci ha oggi oggi c'è un dirigente domani ce ne sarà un altro perché poi tutti come sapete più o meno vanno in scadenza con una tempistica certa e quindi mia intenzione è anche quella di rivedere proprio gli assetti organizzativi anche dei contenuti diciamo per come siamo strutturati oggi proprio perché le richieste esterne oggi sono assolutamente differenti quindi la richiesta è ve l'ho fatta un po' lunga perché non vorrei che la cosa fosse interpretata mal interpretata la richiesta è fare delle stabilizzazioni credo che tanti di voi finiscano un calvario perché alla fine dicono finalmente ho un lavoro fisso posso programmare tanti di voi la propria vita l'hanno già impostate come però insomma c'è una maggior sicurezza a fronte di questo l'amministrazione vi dice attenzione quelle sono delle linee strategiche che noi dobbiamo in un qualche modo colmare perseguire e quindi così come per le nuove assunzioni così come per il Comma 2 anche per chi oggi ha il diritto di essere stabilizzato chiedo a voi in primis di pensarci su se individuate qualche posto qualche settore qualche area qualche servizio che l'amministrazione vi sta dicendo c'è bisogno di rinforzare non so se sono stato chiaro io come ho detto sono disponibile poi se qualcuno di voi vuole fare una chiacchierata sia io che Marco siamo qua quindi voglio dire ben disponibili però ecco questo vi sto chiedendo vi do qualche una settimana otto giorni dieci giorni per pensarci poi è chiaro che noi dopo procederemo detto ciò Marco se qualcosa da aggiungere va bene insomma hai detto praticamente tutto però intanto mi fa piacere prendere la parola per per dare questa data certa l'abbiamo detta più volte tavoli con i sindacati insomma informalmente vi è arrivata ovviamente la voce però oggi volevamo dirvi con certezza il primo dicembre i vostri contratti saranno trasformati in tempo indeterminato e quindi da quel momento diventerete dipendenti a tempo indeterminato volevo anche tranquillizzarvi su un aspetto che forse il direttore ha fatto un passaggio che potrebbe far sembrare che ancora qualcosa è a rischio nel senso è vero che nel piano triennale che va oggi in approvazione c'è il piano di fabbisogno dove ci siete anche voi ma già c'è il piano di fabbisogno approvato l'abbiamo approvato diciamo a cavallo dell'estate va se ci mettiamo anche di mezzo il collegio di revisori dove già è prevista questa stabilizzazione quindi noi anche se non dovesse oggi essere approvato il piano triennale il piano di fabbisogno che porta tra virgolette i vostri nomi già è approvato e già è stato certificato nella sua essenza nella parte diciamo contabile quindi questa è una bella notizia mi fa piacere darla troppe volte ho dato notizie di segno inverso e ovviamente non è mai piacevole mi ricordo ancora mentre stava parlando il direttore pensavo nove anni fa fui chiamato io a dire a circa 200 co 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 che non sarebbero stati rinnovati stavamo nel salone c'ero solo io mi ricordo e insomma ecco ora diciamo che l'umore è esattamente inverso devo dire che l'amministrazione io vi posso testimoniare che ha fatto sempre di tutto per non perdere il personale perché guardate sicuramente quando ci troviamo in determinati contesti possiamo sembrare la controparte ma quando siamo a consigliere d'attitudine di amministrazione vi assicuro che le parti si invertono e noi abbiamo sempre sostenuto che il core business di questo istituto è il personale è la conoscenza io dico sempre noi non costruiamo macchine non possiamo sostituire con dei robot e aumentare la produzione la nostra produzione si misura solamente in intelligenza e conoscenza e ovviamente fino ad oggi poi magari fra 20 anni ci saranno anche intelligenza e conoscenza artificiali ma fino ad oggi l'unica garanzia di questa funzionalità ce la possono dare le persone quindi non investire sulle persone vuol dire non investire sull'istituto ovviamente questo investimento ha sempre delle regole del gioco che bisogna rispettare anche volendo saremo dei folli a pensare di aumentare di 100 unità di personale l'intero organico dell'istituto 100 persone che servirebbero attenzione noi l'abbiamo già detto in consiglio di amministrazione cioè l'istituto oggi è in deficit di personale magari in ambiti che non ci si aspetta noi abbiamo una grossa carenza nel personale di supporto questo perché negli ultimi dieci anni l'amministrazione si è trovata quasi in possibilità da fare politica del personale perché se andate a vedere le assunzioni hanno avuto sempre una logica di stabilizzazione la logica di stabilizzazione ovviamente fa sì che vai a stabilizzare persone che sono state prese con contratti a tempo determinato finanziati dall'esterno e generalmente nel 95% dei casi questa tipologia di contratti riguarda personale tecnico scientifico e non personale diciamo amministrativo anche se a me sta parola non piace perché diciamo di supporto gestionale quindi oggi noi abbiamo un gap da colmare e speriamo che con le nuove assunzioni riusciremo a farlo quindi ecco dicevo intanto tranquillizzazione perché le vostre assunzioni non solo sono già nel piano di fabbisogno ma sono anche in bilancio nel senso che noi nella costruzione del bilancio 2019 ovviamente abbiamo già inserito queste 48 persone a tempo indeterminato in più rispetto ad oggi rispetto al mese di novembre insomma quindi ecco questo è per voler essere diciamo per tranquillizzare dal punto di vista soggettivo e personale quindi quelle che sono le prospettive da questo momento inizia una nuova fase in questa nuova fase la richiesta del direttore di fare appello anche a una vostra a una vostra eventualmente volontà di cambiamento appare doverosa perché da quel momento in poi dal primo dicembre in poi voi comunque sarete ancora di più lo siete già adesso ma sarete ancora di più perché lo sarete a tempo indeterminato parte di questi istituti quindi è giusto che ne possiate condividere anche quelle che sono le finalità e gli obiettivi e siccome gli obiettivi ce li dà anche qualcun altro sia il ministro vigilante il consiglio di amministrazione e li ha già richiamati il direttore ecco il tentativo è quello di intanto dimostrare al CDA che questa stabilizzazione non era solamente una modalità per sanare esigenze personali diciamo così cioè situazioni personali non esigenze situazioni personali ma era una modalità per portare in istituto a tempo indeterminato personale che serve allo svolgimento delle attività che come dicevo mostrano parecchie carenze allora questa carenza come anticipavo prima siccome è un po' a macchia di leopardo cioè ci sono ambiti dove noi obiettivamente non siamo carenti anzi siamo forse sopradimensionati c'è un caso di queste vostre stabilizzazioni mi sembra che 11 o 12 di voi non mi ricordo fanno parte di una medesima area un'area dell'istituto insomma potete capire che portare 11 persone a tempo indeterminato in quell'area probabilmente l'istituto non se lo può permettere perché deve comunque cercare di andare a garantire dei livelli adeguati quantomeno anche in altri ambiti ecco questo è un lavoro che l'amministrazione necessariamente dovrà fare meglio sarebbe se lo facesse con l'appoggio con il consenso e con la condivisione da parte di diretti interessati poi ripeto i cambiamenti sono sempre fronte fonte di crescita quindi sicuramente al di là di una prima perplessità iniziale sicuramente chi si troverà a cambiare attività è ovvio che noi non pensiamo che un ingegnere diventi geologo o qualcosa del genere però insomma cambiare gli ambiti di applicazione delle proprie conoscenze sicuramente porterà un arricchimento professionale a tutti voi che già insomma come diceva il direttore avete già un curriculum di rispetto e quindi non potrà che migliorare la vostra stessa situazione professionale io altre cose da dire non ce l'ho non so se voi avete domande specifiche in ordine a questo processo di stabilizzazione che poi sarà abbastanza semplice nel senso nel caso vostro sarà una semplice disposizione una disposizione che per legge di fatto trasformerà il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato non sono richiesti altri adempimenti quindi insomma da questo punto di vista si trattava di trovare una data ecco la data anche per motivi contabili era opportuno che fosse che ricadesse in quest'anno e quindi insomma così ci siamo mossi il primo dicembre è stata la prima data utile che poteva andare diciamo ad utilità di tutti anche perché così poi uno passa un Natale pure più sereno insomma e questo è il primo il primo ci siamo passati altri Natali con con situazioni situazioni diverse no no ma io insomma devo dire la verità alcuni di voi alcuni di voi li conosco anche magari per militanze per così dire sindacali ci siamo già incontrati molti visti non li conosco e mi fa piacere quindi vederli in questa circostanza e quindi veramente intanto un augurio sincero a tutti voi per essere alla soglia ormai di questo di questo traguardo che è un traguardo che è veramente fondamentale nella vita di una persona quindi sono contento che ci stiate arrivando tutti insieme senza escluderne nessuno questo voglio dire perché le persone che hanno questi requisiti abbiamo avuto la possibilità di portarle tutte e guardate mantenere la barra dritta su alcune regole è un vantaggio poi per tutti se ne accorgeranno anche i colleghi del Comma 2 perché noi non dimentichiamo non lasciamo per strada nessuno li porteremo dentro li porteremo con i tempi che abbiamo pianificato se avessimo scelto altre strade potremmo rischiare di non avere le risorse per garantire a tutti questo meccanismo di inclusione ma non solo noi non dobbiamo dimenticarci del personale di cui andrete a fare voi fra poco parte cioè del personale a tempo indeterminato dell'istituto che da molti anni invece è fermo è fermo non abbiamo più fatto voi sapete progressioni nei livelli 1-3 in particolare noi in questi anni abbiamo avuto una decapitazione dell'istituto c'è stato una le cessazioni pensionamenti dimissioni insomma comunque raggiungimenti di un'anzialità o di vecchiaia di un numero enorme dei livelli primo e secondo allora siccome io mi auguro che molti di voi possano anche nei prossimi dieci anni diciamo così aumentare il proprio livello bisogna cominciare bisogna cominciare a prendere in considerazione anche chi ci sta nel terzo livello già da parecchi anni considerate che noi abbiamo quasi 450 unità di persone al terzo livello se andiamo a vedere la dotazione organica dell'istituto tornando a quello che vi dicevo prima delle carenze sul terzo livello è l'unico livello dove non siamo carenti cioè anzi abbiamo un piccolo esubero dopo queste stabilizzazioni di qualche unità quelli dove veramente stiamo a pezzi sono i primi e i secondi livelli allora bisogna cominciare a reinvestire per far ripartire anche delle dinamiche interne poi adesso sapete la giurisprudenza forse in questo ci sta dando una mano stiamo un po' alla finestra a vedere cosa succede perché abbiamo dei trascorsi negli ultimi dieci anni non in Ispra proprio gli enti di ricerca dove le progressioni sui primi e secondi livelli sono state sempre fonte di contenzioso che si è trascinato e si trascina ancora magari a sette, otto, nove anni di distanza ancora noi non abbiamo non abbiamo messo la parola fine su progressioni che vennero fatte quando ancora c'era l'Apat figuratevi quindi più che mai è opportuno che il quadro giuridico di riferimento sia chiaro come sapete c'è qualche novità quest'anno insomma c'è stata un'importante sentenza della Corte di Cassazione e quindi queste novità avrebbero il pregio di poter dare a più persone nella possibilità di fare un passo in avanti cioè passare al secondo a primo livello ma poi non dimentico neanche i passaggi quattro ottavi per così dire che nel piano di fabbisogno abbiamo inserito come vi dicevo e scusate che non ho staccato il telefono questo è il presidente abbiamo inserito e questo anche per dare ripeto un segnale al resto del personale perché non vogliamo lasciare nessuno al palo vogliamo veramente cominciare finalmente a fare delle politiche del personale dico finalmente perché come vi dicevo siamo stati molto obbligati prima dalle stabilizzazioni che si sono susseguite praticamente a una cadenza abbastanza cioè con un ritmo cadenzato 2007 2012 2018 ora siamo in una situazione in cui non abbiamo più personale praticamente personale diciamo eccessivamente anziani ecco abbiamo ancora questi comma 2 ma contiamo nell'arco dell'anno di risolvere allora finalmente possiamo iniziare a riprogrammare quella che è una strategia del personale che poi come vi dicevo è fondamentale perché per noi il personale è l'anima pulsante dell'istituto l'autorevolezza dell'istituto passa dalla conoscenza del personale delle singole materie e se non possiamo investire su questo l'istituto è destinato a morire cosa che abbiamo detto chiaramente perché in CDA vi assicuro che a volte si sta molto più attenti ai conti non vorrei fare un paragone irriverente pensando a massimi sistemi però in effetti a volte bisogna capire che se si rispettano pedisseguamente alcune norme che poi tra l'altro noi rispettiamo però se si vuole andare oltre questo rispetto che diventa un rigore alla fine noi facciamo la classica operazione che riesce ma il paziente muore allora noi dobbiamo fare in modo che questo istituto tenga sott'occhio i propri conti come abbiamo sempre fatto ma allo stesso tempo non castri la propria la propria volontà di mantenere a essere vitale e poter avere un ricambio generazionale nelle file dei propri personale tecnico scientifico e amministrativo io non ho altro da dire non so se tu oppure ecco c'è una domanda è possibile certo che è possibile per chiudere tutta l'informazione completa quindi passati questi dieci giorni mi faccio a dire se nessuno diciamo vuole esprimere una non sarete più assunti ci sarà una deportazione di massa ci sarà una deportazione di massa procediamo nel senso che stabilizzare dobbiamo quindi che cosa farete in base a un rito che avete letto farete una no non lo so adesso non 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 fatemi dire cose che poi non procediamo per forza perché nel senso che procedere bisogna sono due momenti diversi uno è quello dell'assunzione l'altro è quello dell'assegnazione ci può essere anche un'assunzione che con un'assegnazione temporanea o una non assegnazione nel senso che uno ovviamente nel momento in cui non c'è un'assegnazione rimane in quel posto ma ancora non è di fatto assegnato però sono due momenti diversi non li confondiamo e non vi quando vedemo a firmare il contratto detto proprio i soldoni ci dobbiamo aspettare nel contratto non c'è scritto ho detto io dieci giorni perché se già qualcuno dà una sua disponibilità facciamo meglio però abbiamo voluto fare questo passaggio diretto con voi perché abbiamo chiesto anche i vostri responsabili ovviamente però si sembrava più corretto anche visto che non siete in 5.000 dirvelo direttamente poi raccoglieremo i feedback da voi i feedback dei vostri dirigenti ci faremo qualche ragionamento poi e poi vediamo però ecco quello che vi dico ve lo dico proprio non col cuore in mano non esageriamo però ve lo dico con la massima apertura perché se no non avrei fatto che bisogna che tutti noi adesso voi entrate siete anni che siete qua però adesso entrate definitivamente nell'istituto come diceva Marco bisogna che tutti siamo consapevoli che stiamo andando in una direzione che è un po' diversa rispetto a quella di prima che per me poi è una situazione assolutamente più interessante io la dico così da un punto di vista della nostra collocazione nel panorama generale dell'attività che facciamo rispetto ai grandi temi delle questioni ambientali cioè svolgeremo un ruolo credo sempre di più unico se ci caratterizziamo bene pur mantenendo diciamo quell'attività che ci portiamo storicamente dietro però insomma bisogna guardare avanti e non indietro questo è il messaggio perché se no non andiamo da nessuna parte poi tutti noi teniamo sempre siamo molto conservativi perché si sembra un po' spaventati nel buttarsi in avanti però in realtà è una partita che dobbiamo giocare e va giocata all'attacco e non in difesa allora abbiamo abbiamo delle buone condizioni possiamo far bene ci stiamo posizionando da tanti punti di vista abbiamo riacquistato un buon rapporto col ministero si sta lavorando discretamente per quanto certe ruggini continuano ad esserci certi settori più di altri però insomma li scavalchiamo li scavalchiamo prima facevamo fatica anche a scavalchiare e quindi c'è un rapporto insomma diverso ci stiamo provando ecco però questo rapporto diverso nasce anche dall'autorevolezza che tu sei in grado di mettere in campo l'autorevolezza non te la conquisti per grazia divina te la conquisti per il tuo lavoro per la coerenza per la serietà per le tue capacità questa è la scommessa che ci abbiamo davanti però siamo un unicum come istituto perché siamo gli unici che abbiamo questa doppia veste di amministrazione di supporto all'amministrazione attiva e di ente di ricerca giochiamocelo bene oggi ci viene chiesto dal legislatore di lavorare molto di più sulla parte di supporto all'amministrazione attiva che voglio dire è un supporto qualificato perché uscire con un prodotto interessante se faccio un esempio a Piera sul dissesto piuttosto che sul consumo di suolo piuttosto che sui pesticidi piuttosto che sui rifiuti alla fine è un lavoro dove c'è un pezzo di elaborazione concettuale importante quindi che è frutto anche dell'impostazione di ricerca che ha il personale ma è anche un come posso dire un elemento su cui tutto il resto del paese si confronta ora voi capite che se alla fine tu sei quello che produce il dato ufficiale dal cambiamento dalle emissioni atmosfere al cambiamento climatico alla qualità delle acque alla quantità a cui tutto il paese fa riferimento insomma non vi sfugge che la qualità del tuo luogo cioè l'ente viene a avere una posizione di un certo tipo poi abbiamo tutti i nostri problemi li conosciamo diciamo che dall'esterno ci vedono meglio di quello che ci vediamo noi dentro come sempre che capita prego appartenendo già ad una delle aree che sono state non conoscevo questo nuovo elenco diciamo conoscevo il pregresso diciamo c'è la necessità di tra virgolette ribadire la volontà il piacere di rimanere nell'area attuale che corrisponde ad una di queste ossia in questo caso invece in una situazione di default tra virgolette io credo che se uno è già in un posto non manifesta nulla credo che no? cosa dici? non credo ci sia diciamo che non è necessario ma non fa male tutto sommato ci chiarisce ancora meglio stiamo preparando il format una mail una mail al direttore a lui intanto le leggo la mia la leggo su una mia non lo dico a nessuno promesso e che dentisti che ci saranno per chiudere appunto questa selezione di questo personale che verrà spostato nei settori più congrui per la mission dell'istituto per capire quando finisce quest'altra pregarita no 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 guardate allora no no allora intanto ovviamente prima prima se si riuscisse a fare anche prima del primo dicembre sarebbe bene in tutti i casi posso impegnare sia il sottoscritto che il direttore ma più il sottoscritto perché se no il direttore passerà comunque da un colloquio nel senso se qualcuno di voi manifesta l'intenzione di cambiare è ovvio che noi ne parleremo con i responsabili diciamo se possiamo usare questo termine il cedente il cessionario no e ne parleremo anche possibilmente con voi quindi insomma prima ci si muove e meglio è diciamo che l'estrema razio ecco se proprio noi non riuscissimo ad avere nessuna disponibilità in questo senso allora poi l'estrema razio sarebbe quella di dire non è possibile non mandare nessuno in quest'area così come non è possibile mandare 10-12 persone in un'unica area dell'istituto area non penso penso in area in senso tecnico di come ne parla il 57 il 37 cos'è della deliberazione capito cioè proprio non è pensabile che di 48 persone 12 vadano in un'area quindi dobbiamo cercare un'istribuzione allora l'estrema razio è quella di dire bene sulla base del curriculum letto questa persona può andare a occuparsi sicuramente di questa di questa attività prioritaria però vogliamo che sia un'estrema razio anche perché guardate ecco forse una cosa una cosa non abbiamo detta non è che noi ci aspettiamo che 48 persone ruotino così come non ci aspettiamo che quelle 20-25 persone che oggi non sono focalizzate propriamente sulle aree prioritarie ruotino tutte e 25 noi vorremmo dare un segnale nel senso al segnale a chi lo devi dare intanto a noi stessi perché vuol dire che abbiamo detto in consiglio di amministrazione una cosa che era vera ma soprattutto appunto al consiglio di amministrazione poter dire guardate queste 30 persone già si occupavano di un ambito prioritario queste altre 10 insomma i numeri non passano la somma non è quella queste altre insomma le abbiamo spostate in aree più cioè far capire che effettivamente c'è dietro quello che ci deve essere c'è una regia che faccia sì che l'istituto con questa nuova linfa che arriva va a coprire il più possibile tutte le aree di interesse poi come vi dicevo non manderemo mai un geologo su un cammino dell'ilva per dire perché magari non è la sua la sua competenza ecco sempre nel rispetto di quelle che sono le competenze professionali insomma abbiamo tentato un percorso democratico vediamo se funziona però credo che faccia sempre bene insomma anche giusto poi ripeto non è che siete avete 27 anni che è un anno che siete precari e entrate quindi uno dice voi siete persone che insomma siete dei precari particolari cioè che ormai è una vita che sono che sarebbe molto diverso che se uno dice devo assumere 30-40 persone che due anni che sono precari e quindi a quel punto forse uno avrebbe anche evitato di fare sta roba avrebbe detto se vuoi venire a lavorare tu vai qui tu vai qui tu vai là è chiaro che questo voglio dire sono tutte persone credo di un certo buon senso quindi non si poteva fare una cosa così non mi sarei mai permesso di farlo quindi massimo rispetto per quelle che sono state le vostre carriere ed è la vostra carriera ciò nonostante sono obbligato a dirvi bisogna che ragioniamo così perché 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 queste le risorse insomma avevo già detto prima è utile che me la ridichi va bene grazie mille grazie grazie